Il rafforzamento della stessa, grazie. Ok, and now for the S&D, Leonardo Domenici. Ora, onorevole Domenici degli socialisti. Governatore, benvenuto. Lei ha già risposto in parte all'onorevole Swinburne e all'onorevole Langen sui tassi di cambio e sul problema della competitività. Però voglio sollevare una questione. La scorsa settimana, dopo la conferenza stampa del Presidente Trisce, la sola possibilità ventilata o così interpretata dai mercati di un aumento dei tassi in luglio ha provocato una reazione. Ora, il problema è se la situazione che stiamo vivendo e le risposte che si stanno elaborando in parte sono determinate dal rischio di un aumento di inflazione nei Paesi del Nord. Ma questo può avere un effetto forte, pesante e condizionante sui Paesi, diciamo così, del Sud Europa. Ora, è evidente che non bisogna operare sui tassi di cambio nei termini in cui lei ha detto prima. Ma io ritengo che la riduzione del debito non sia sufficiente per rilanciare crescita e competitività. Allora, se è necessaria la responsabilità nazionale, c'è bisogno del rilancio di un governo europeo. Politiche fiscali comuni, condivisione del rischio e riduzione dell'extradebito, unione politica più forte. La mia domanda è questa. Lei è un uomo che ha il senso delle istituzioni e il rispetto delle istituzioni, e questo è un bene prezioso a livello europeo e anche nazionale. Tuttavia, lei ha anche detto al termine scritto nelle risposte alle domande che lei è un dedicated European. La mia domanda è, in questo momento in cui c'è bisogno anche di fare cose straordinarie, oltre che rispettare i limiti delle proprie funzioni istituzionali, ci sarà l'impegno del futuro Presidente della BCE per rilanciare questi obiettivi di governo europeo per la crescita, per lo sviluppo, anche oltre quelli che sono i limiti istituzionali della sua funzione. Come ho detto all'inizio, gran parte della mia vita è stata dedicata alla costruzione dell'Unione monetaria e dell'Europa. molti dei problemi che noi stiamo vivendo oggi, e questo è chiaro un po' in un certo senso a tutti, trovano la loro origine in un mancato, in un processo incompiuto. Abbiamo costruito un'unione monetaria, abbiamo una moneta unica, per molti anni i Paesi hanno pensato che fosse sufficiente, e invece poi si sta scoprendo che non è sufficiente avere una moneta unica se non si fanno anche delle politiche appropriate. Il processo politico va in stadi. Noi ora siamo come in mezzo al guado, in un fiume. Il passo successivo, secondo me, è fare, il passo immediatamente successivo, è costruire su ciò che abbiamo già. Abbiamo, sono più chiaro, avevamo un sistema di regole, lo Stability and Growth Pact, per la disciplina dei bilanci. Cinque anni fa l'abbiamo indebolito. Quello è stato un errore. Quindi dobbiamo ritornare ad avere delle regole di disciplina, e per disciplina intendo regole di disciplina preventiva, di monitoraggio e di sanzioni, sanzioni che sono politiche, reputazionali e finanziarie, per la disciplina di bilancio. Le procedure, voi sapete qual è la posizione della Banca Centrale Europea e del Presidente Trichet, e io la condivido in pieno, le procedure devono essere automatiche, proprio per evitare l'esperienza che abbiamo avuto con il patto di stabilità e di crescita. Il Parlamento Europeo ha fatto molto in questo senso, ed è proprio anche sull'aiuto del Parlamento che l'ABC ha potuto contare nei passati mesi. Ora, in un certo senso, le parole chiave di questo processo sono rafforzare, approfondire, allargare, rafforzare la sorveglianza, nel senso che ho appena accennato, approfondirla, nel senso di farla diventare più dettagliata e allargarla anche ad altre aree, e questa è una cosa che vado dicendo da molto tempo, anche ad altre aree che non sono la disciplina di bilancio. Noi stiamo scoprendo che il problema di molti Paesi è oggi la competitività. La competitività si aumenta con le riforme strutturali, però nell'area delle riforme strutturali noi non abbiamo ancora introdotto fino al patto e al patto ora recentemente al lavoro del working group di Van Rompuy non avevamo introdotto delle regole comuni. È stato fatto un primo passo, queste regole non sono ancora vincolanti, sarebbe meglio cominciare a pensare di renderle vincolanti in qualche modo, in altre parole replicare quegli elementi di disciplina che abbiamo nell'area di bilancio anche ad altre aree. È un processo graduale ma secondo me è un processo realistico, mentre più difficile è il salto in avanti verso nuove istituzioni, nuove organizzazioni, nuovi concetti. Quindi bisogna essere consapevoli della direzione dove si va ma avere anche presenti i passi che realisticamente si possono compiere. grazie.